Salve a tutti, sono Marco Novarese di Matrox, siamo all'ISE 2015 e volevo farvi vedere cosa abbiamo di nuovo. Noi stiamo presentando la nostra recentissima linea di schede grafiche molti uscite, la serie C. Le due nuove schede sono una quattro uscite low profile raffreddata senza ventola, uno dei più veloci prodotti, più performanti prodotti di questo tipo in questo momento sul mercato e una sei uscite mini display port per gestire fino a sei monitor 4K contemporaneamente. I nostri punti di forza sono sicuramente la stabilità del prodotto, la longevità del prodotto e la flessibilità della gestione del multi monitor. Qui all'ISE stiamo facendo vedere come possiamo gestire due monitor 4K, uno in pivot e uno in landscape, più quattro monitor full HD in configurazioni di 2x2, tutto da un'unica scheda grafica, gestendo due video 4K più degli altri contenuti full HD. All'ISE quest'anno parliamo anche del nostro prodotto per distribuzione video su IP, Matrox Mavex, che permette di mandare su rete IP standard, quindi attraverso switch standard, contenuti full HD a 60 Hz, audio e video, e di poterli visualizzare in diversi punti di visualizzazione attraverso dei piccoli decoder H.264. Presentiamo anche, rifacciamo vedere anche, un nostro prodotto di grande successo, che è la nostra linea di prodotti Matrox Pura per gestire video wall complessi, con diversi ingressi video e uscite, perché l'area dei video wall è anche di grandi dimensioni.